Se facciamo meno movimento in questi giorni, oppure se tendenzialmente siamo sedentari, dobbiamo ridurre i carboidrati? Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto. Allora, in questi giorni, come tutti sappiamo, c'è la quarantena forzata a causa Covid-19. Detto questo, sul mio profilo Instagram, ma anche sulle email, ho ricevuto un sacco di domande e fra le più gettonate c'è Ma Nicola, devo togliere i carboidrati adesso che non mi alleno più? Devo mangiare meno? Cosa devo fare con l'alimentazione? Allora, diciamo che qui si aprono diversi scenari, cerchiamo di individuarli insieme. Ci sarà la persona che, visto che la palestra è chiusa, non vuole assolutamente allenarsi a casa e quindi resterà sedentare. La persona che invece, a casa, proverà magari comunque a fare degli allenamenti a corpo libero e riuscirà comunque ad aumentare il suo dispendio calorico. Detto questo, siccome tendenzialmente non si può uscire a fare delle passeggiate, cercheremo di organizzare anche degli allenamenti in modo tale che il consumo calorico sia più alto possibile nel minor tempo possibile. In questo scenario ci sono altre due diramazioni, ovvero c'è chi magari era in deficit calorico, quindi stava perdendo dei chili e quindi si stava sostanzialmente rimettendo in forma E c'è chi invece stava cercando di mettere massa muscolare, quindi era in surplus calorico. Per le persone che continuano ad allenarsi, che erano in deficit calorico, secondo il mio punto di vista, possono mantenere le stesse calorie di prima. Ok? L'importante è cercare di organizzare bene gli allenamenti, visto che non possiamo fare delle camminate, magari possiamo organizzare tre giorni a settimana di allenamento muscolare abbastanza intenso Se abbiamo anche dei manubri, dei bilanceri, qualcosa in casa. E magari fare due, tre allenamenti a settimana di tipo, ad esempio, metabolico o HIT, ok? Ad alta intensità, magari o intervallati, quindi 30 secondi di lavoro, 30 secondi di recupero, oppure EMOM, oppure tantissime cose. Sul mio profilo Instagram trovate tantissimi circuiti, esempio che potete prendere come riferimento. Anche sul mio canale YouTube ne ho messo uno che ve lo lascio qui sopra. C'è proprio un video dove vi spiego come organizzarvi le schede di allenamento da casa. E quindi le persone in deficit calorico che continuano ad allenarsi possono tranquillamente continuare con quelle calorie. Chi invece è in surplus calorico e continua ad allenarsi, anche in questo caso potrebbe magari ridurre leggermente le calorie, non mi metto a dire valori a caso, però comunque può mantenere il suo leggero surplus calorico, perché magari in palestra può allenare più gruppi muscolari, può farsi magari di allenamenti da un'oretta e mezza più specifici, mentre invece adesso a casa non ha tutta l'attrezzatura necessaria per allenarsi, di conseguenza probabilmente il dispendio calorico sarà leggermente inferiore, quindi si possono leggermente abbassare le calorie, ma non serve più di tanto. L'altro scenario invece è, chi si allenava prima e era in deficit calorico, a questo punto potrà tenere il deficit calorico di prima, ma se vuole può provare ad abbassare ulteriormente le calorie, visto che comunque adesso si muoverà molto meno. E la cosa sostanziale che cambia è che avrà meno dispendio calorico. Ma questo non deve essere per forza così. La cosa fondamentale che potreste fare ad oggi è di misurarvi, ok? E fra una settimana, due settimane, rimisurarvi e vedere che cosa è successo. Così vedete anche come il vostro corpo reagisce. L'altro scenario invece era di chi era in surplus calorico e che adesso non si allena più. Allora, a questo punto, secondo me, questo soggetto è proprio quello che deve fare la variazione più grande rispetto agli altri, perché non ha senso restare in surplus calorico se non ci alleniamo più, perché questo probabilmente lo porterebbe ad ingrassare, perché non ha assolutamente alcun senso introdurre di più rispetto a quello che noi facciamo, se comunque non, fra virgolette, non lo bruciamo, comunque non lo indirizziamo verso i muscoli. A tal proposito, questo potrebbe ridurre le calorie, magari di un 10, 15, 20% rispetto alle calorie che introduceva prima. Quindi magari ritornare a una norma calorica o leggero deficit calorico. Ma anche qui dipende sempre dai soggetti, perché se il soggetto, ad esempio, è ectomorfo e brucia da morire, non c'è alcun problema, magari la bassa di un 5%, resta su quel peso, perde un po' di muscolo, ma una volta ripresi gli allenamenti, riprenderà nel giro di due settimane tranquillamente il muscolo che aveva già costruito, perché ricordiamoci sempre che noi abbiamo la memoria muscolare. Anche su questo fronte non dobbiamo assolutamente temere. Per fortuna, madre natura ci è venuta incontro con la memoria muscolare. Detto questo, spero di esservi stato utile con questo video. Ditemi qui sotto nei commenti se avete qualsiasi domanda da farmi riguardo a questo periodo, perché voglio esservi di supporto. Voglio cercare di creare community anche qui su YouTube, come ho già fatto su Instagram e sto continuando a portarla avanti tutti i giorni. Quindi, una cosa fondamentale, mettete like al video, iscrivetevi al canale, condividetelo dove volete. Mi raccomando, provate anche gli allenamenti che sto pubblicando in questi giorni, dateci dentro e non molliamo perché noi siamo più forti della quarantena. Ciao!